Siamo qui presso Contrada Scarnecchia, è un evento importante perché grazie all'Anspi finalmente è riattivata una delle fontane del Re. Ne parliamo con il Presidente, nonché il geometra dell'Anspi, Raffaele Grasso. Quanto è importante questa riattivazione della fontana e dell'acqua chiaramente? Diciamo che questa fontana era stata un po' abbandonata da circa 70 anni, non usciva più l'acqua, quindi noi praticamente ci siamo presi a cura di questa situazione, abbiamo cappetato queste sorgenti che stanno a monte della fontana e abbiamo riportato finalmente la fuoriuscita dell'acqua. Mi diceva prima che erano oltre 70 anni che la fontana non... Sì, sono oltre 70 anni che praticamente dai vecchietti della zona ricordano che venivano qua per annaffiare i cosiddetti terreni, gli orti che si realizzavano a valle di questa situazione e quindi è stato un intervento importantissimo sostanzialmente. Di carattere personale. Anche di carattere personale perché io poi sono di queste zone, quindi siamo stati un gruppo di persone che ci siamo dedicati a questo lavoro, l'abbiamo presa a cuore lavorando insomma sabato, domenica... Con voglia di farlo. Con voglia di farlo. Ringraziamento a tante persone ma in particolare... In particolare c'era tra di noi un Grieci Nicola che poi è venuto a mancare, purtroppo dove aveva dato già la sua disponibilità nel lavoro e anche economicamente ma purtroppo è un ringraziamento... Anche nel ricordo, anche nel ricordo è importante. Vedo che la contrata partecipa a tutta. La contrata ma pure poi bisogna tener conto che anche l'amministrazione in questa fase siamo stati finanziati con 3.800 euro, è stato indicato nella brochure praticamente, quindi è stato un lavoro un attimino congiunto. Noi come Aspi abbiamo dato tutto il lavoro, la mano d'opera e abbiamo contribuito anche noi con gli associati e qualche raccolta con fonti. Cioè l'intervento è abbastanza pure costoso. Diamo importanza a ciò perché siete stati fondamentali senza di voi probabilmente. I soldi erano pure importanti per realizzare l'opera, però se non c'erano i volontari che praticamente si impegnavano a fare questa cosa non veniva fuori niente. Quindi noi ringraziamo ancora lei come Presidente dell'Anspi e tutti gli amici dell'Anspi ricordando che il recupero è la storia. Finalmente il carpino della pila, perché si chiama così, è stato riattivato. Praticamente il carpino vuole intendere una pianta che noi abbiamo, non so se avete visto il lato messo qua che è una pianta che da poi pure frescura. È la classica pianta sostanzialmente. Il simbolo di questa zona. Il simbolo di questa zona, sì. Bene, grazie ancora. Intanto state con noi e aspettiamo Monsignor Melillo e forse parleremo anche con lui o con qualcun altro. Grazie di cuore. Grazie. L'acqua è la sorgente di ogni cosa, della vita e ricorda anche il battesimo, ricorda i sacramenti, ricorda la nascita. È un elemento importante che è anche un elemento di grande socialità perché intorno alle fontane ci si incontrava per abbeverarsi ma anche per trovare un momento di svago, di riflessione, di incontro. Quindi anche voler rinverdire questi ricordi significa forse un gesto anche per riscoprire quella dimensione sociale che forse spesso dimentichiamo. Quindi cambiano i tempi, cambia tutto, ma c'è qualcosa che non cambia mai. Ma certo, l'acqua è un elemento vitale, non si può cambiare mai. E poi ricordare che questi luoghi sono stati anche luoghi del lavoro, ci aiuta anche a comprendere il sacrificio, la dimensione dell'incontro. Tutta realtà che dovremmo sempre di più riscoprire. L'Anspi è un'associazione fondata da Paolo VI, sui circoli San Paolo, riguarda l'oratorio. È una realtà che è nata e si è diffusa anche nel nostro territorio, quindi ha una dimensione cristiana che va sempre di più rafforzata, riscoperta e rimigorita. Sia dal punto di vista del ripristino della presenza dell'acqua in questa fontana, sia soprattutto perché questa fontana rischiava di crollare, di cadere. Insomma c'è stato qualche problema anche con l'Ans. Adesso abbiamo risolto tutto, mi sembra una bella occasione questa del 9 aprile per questa inaugurazione. Ma si guarda, perché questa non si può bere e sicuramente non ci si possono lavare le auto. Quindi può servire per motivi veramente di carattere estetico e soprattutto per evitare che potesse avere un degrado ancora maggiore. Nella mia precedente attività di sindaco, nel 2004-2009, insieme alla comunità montana dell'Ufida, ringrazio l'attuale presidente, riuscimmo a sistemare tutta la fontana, quella diciamo di Ponte Gonnella, che è una fontana molto più imponente, molto più importante, che fa parte. In passato ci sono stati altri interventi. La Fontana della Maddalena fu messa a posto da un'associazione, quella dei Lion. Io credo che questi siano, ripeto, i begli esempi di salvaguardia e valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale. bravo!